Sono 14 le poltrone che il nord-est porterà a casa a Strasburgo e 191 gli aspiranti. Nelle 15 liste presentate fino a ieri alla Corte d'Appello di Venezia. Molte conferme come la presenza a capolista di Forza Italia, della Lady di Ferro, la padovana Elisabetta Gardini e qualche sorpresa. Massimiliano Barison, sindaco del Bignasego, chiamato a prendere il posto del vicentino Sergio Berlato. Clamorosamente escluso dai suoi e già rientrato in lista con il partito di Giorgia Meloni. Una campagna tutta da costruire in poco meno di un mese per partire alla conquista di quattro regioni. Io mi presento come una persona giovane, 40 anni, un amministratore di un comune importante della provincia di Padova e anche con l'esperienza di assessore al lavoro che mi ha dato la possibilità di aiutare aziende e lavoratori toccando con mano la crisi e facendo tutto il possibile per fare in modo che questo nostro territorio riuscisse a superarla. Padovano di Piombino, anche l'imprenditore noto come comandante dell'esercito di Silvio, Simone Furlan. Con il nuovo centrodestra in lista da Padova il presidente del consiglio regionale, Clodovaldo Ruffatto. A sinistra se la dovranno giocare i padovani Antonino Pipitone, già consigliere regionale di Italia dei Valori. Il nostro slogan è europei ma non tedeschi perché vogliamo dire che non ci piace questa Europa delle restrizioni e delle banche dei banchieri. Abbiamo delle proposte molto forti e molto interessanti, vogliamo un contratto di lavoro europeo, vogliamo delle tasse che siano europee. E il Partito Democratico che schiera due big, l'ex sindaco ed ex ministro Flavio Zanonato in un testa a testa con il cittadellese già eurodeputato Franco Frigo, ex governatore della Regione Veneto.